E' successo ancora una volta, il Palermo va ad Empoli e dimentica come si gioca a calcio, perde meritatamente contro la squadra di Gigi Cagni a cui il 3-1 sta addirittura stretto. Un Palermo brutto che non è mai stato in partita se non per un'intuizione di Cavani che si è inventato il gol del vantaggio. Ma è stato un episodio ed occasionale per Giunta, la squadra di casa aveva avuto almeno tre palle, golle limpide. Incredibile quella asciupata da Saudate a partita appena iniziata, imitato da Pozzi qualche minuto dopo. L'assedio empolese dei primi minuti è stato interrotto solo da un colpo di testa di Cavani a cui Balli ha evitato la gioia del vantaggio. Tranne che in questa occasione i Rosanero non sono mai riusciti ad imbastire una sola azione degna di nota, probabilmente questo centrocampo non può fare a meno di quel minimo di geometrie che garantisce il brasiliano Simplisio tenuto a riposo per l'inserimento di Guana. Nessuno dei Rosanero, tranne Fontana fino a quando è rimasto in campo, si è salvato dalla giornataccia. Tutti sotto la sufficienza, Caserta addirittura ha un gradino sotto gli altri perché ha avuto la grave colpa di farsi ammonire per un fallo inutile nei minuti iniziali e di farsi espellere per un altro fallo evitabile. Probabilmente l'arbitro è stato troppo severo nei suoi confronti, ma un giocatore della sua esperienza ha certa ingenuità, non deve commetterle. Probabilmente l'ex catanese andava cambiato prima. È apparso evidente che Guana, Migliaccio e Caserta insieme, senza Simplisio, difficilmente possono essere riproposti. Cavani e Mauri hanno fatto una figuraccia, soprattutto il brasiliano, ma c'è da evidenziare che non sono stati per nulla supportati dalla squadra che ha soltanto gettato palle lunghi in avanti impossibili da giocare per i due attaccanti. Una sconfitta pesante anche perché non ci sono attenuanti. È stato un Palermo troppo brutto per essere vero e questo forse potrebbe essere l'unica consolazione. Colantuono sta cercando ancora la migliore formazione. La partita di Empoli potrebbe avergli dato utili indicazioni. Colantuono, che non sa del fatto che il rosanero ad Empoli dimenticano come si gioca a calcio, si è afflosciato anzitempi in panchina, deluso oltre misura dalla strana prestazione dei suoi. Empoli è stata ancora una volta fatale per i colori rosanero. Per fortuna non ci torniamo, almeno per quest'anno. Adesso Stefano Colantuono dovrà capire perché la squadra ha giocato così male e dovrà ridare l'entusiasmo perso in terra toscana. I rosanero devono ritornare a correre e giocare a calcio come sanno e devono farlo subito perché giovedì c'è il ritorno in Coppa UEFA. Il Palermo vero non è quello visto ad Empoli. Una giornata storta può capitare. Bisogna però farne tesoro affinché non si ripeta. La sconfitta ci può stare, ma una prestazione così scarsa no. Prima i cechi in Coppa, poi la regina sempre al Barbera, battiamoli e domenica sera avremo già dimenticato la fatale Empoli.